ciao ciao a tutti abbiamo fatto un incontro per la raccomandata elettronica sulla postalizzazione digitale a un evento qui dove si parlava di gestione della cessione del credito e mi hanno fatto questa affermazione che oggi voglio condividere anche con voi contano di più le cose che hai fatto o quelle che farai fatemi sapere cosa ne pensate con i commenti così discutiamo concentrazione concentrati in azione